Danelino, palla verso Simone Perrotta, resiste a una carica di Cesar, ancora la palla di Menez, cross in linea di rigore, colpo di testa di Cesar, il tentativo di Guana di allontanare, palla a limite dell'area di rigore, il tocco del capitano, ancora Danelino, il tiro, Simone, 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 il go del vantaggio della Roma, il go del vantaggio della Roma, la Roma che ha tenuto palla per 3 minuti e 20 secondi.